Sono numeri da capogiro quelli che la Guardia di Finanza ha mostrato nel suo rapporto 2011. Oltre 7.500 gli evasori totali, quelle persone o imprese completamente sconosciute al fisco, scoperte dalle fiamme gialle negli ultimi 12 mesi e che hanno occultato allo Stato redditi per oltre 21 miliardi di euro. Nel 2011 sono stati denunciati 12.000 soggetti per frodi e reati fiscali. Persone che hanno utilizzato e emesso fatture false, non hanno versato l'IVA, hanno omesso la dichiarazione dei redditi o nascosto la contabilità. Si parla di un giro di redditi imponibili non dichiarati per oltre 50 miliardi di euro e un'IVA non versata per oltre 8 miliardi. Durante l'attività di contrasto all'evasione fiscale, gli agenti hanno sequestrato immediatamente ai responsabili dei reati ben 902 milioni di euro tra beni mobili e immobili. E sul fronte dell'evasione fiscale, al di fuori dei confini nazionali, si scoprono redditi non dichiarati che ammontano a circa 11 miliardi di euro.